Una mamma, una mamma, una donna molto intraprendente che non si ferma mai. Sicuramente è autonoma, intraprendente. Io ero rimasta al 2.0. Eh no, stiamo andando avanti. 3.0 non l'ho visto, siamo arrivate al 4.0. Perché poi le donne si sa, insomma, sono delle forze della natura, diciamolo. Riusciamo a fare veramente tante cose. Sicura di sé.